Ripartire da Cremona dove poco più di un anno fa, il 26 agosto del 2023, aveva festeggiato il primo gol con la maglia del Bari e l'idea che Giuseppe Sibilli per tutti i tifosi bianco-rossi Peppe sta accarezzando con vista sulla trasferta dello Zini in calendario domenica 6 ottobre alle 15 per l'ottava partita di campionato. L'assenza di Nunzio Lella, chiamato a scontare la prima di due giornate di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato con revisione al monitor per la manata caporale del Cosenza, apre un buco nel centrocampo di Moreno Longo e tra i candidati alla sostituzione del centrocampista di Santeramo in Colle c'è anche Sibilli. Lo stesso allenatore aveva detto di lui che giocare da mezzala sarebbe stata un'opzione nelle corde del giocatore. Così, dopo la mezz'ora di sacrificio vissuta in quella posizione sabato scorso a un mese dall'infortunio muscolare che lo aveva frenato contro il Sassuolo nell'1-1 del 27 agosto, Sibilli confida nel ritorno tra i titolari. Le alternative all'ex Pisa riscattato in estate dal Bari per la cifra di 650.000 euro corrispondono a Raffaele Maiello, scelta che implicherebbe lo spostamento di Benali nel ruolo di mezzala e a Colissaco, opzione che invece, alla pari del possibile accentramento di Oliveri con impiego di Favasuli a destra permetterebbe a Benali e Maita di non modificare caselle di partenza nel 3-5-1-1 che il Bari ha sposato da qualche settimana. Sibilli non è l'ella, certo, ne conseguirebbe quindi un Bari più manovriero con meno centimetri e profondità ma con maggiore qualità negli ultimi 25 metri, caratteristica che l'anno scorso ha consentito al ventotene campano disegnare ben 12 volte, dati ai quali il Bari si era aggrappato nella corsa a salvezza. Quella dozzina di gioie era valsa il record personale tra i pro, tanto che vederlo oggi ancora secco e fuori dalla cooperativa del gol bianco-rossa, fa rumore, Sibilli ha festeggiato con una capriola la vittoria di Frosinone, osservata dalla panchina, e ha testato il motore da subentrante con il Cosenza manifestando una condizione ancora da perfezionare. Nel mezzo c'è stata una settimana di lavoro, utile per crescere nello stato di forma e assecondare al meglio le richieste di Longo. Saranno sufficienti per riprendersi un posto da titolare? Domenica alle 15 la risposta d'altronde allo Zini e Sibilli sa come si vince.